al salone del mobile missoni regala tanto 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 colore uno splendido stand con tutte le novità ebbene è un marchio famoso nel mondo fondato da ottavio rosita missoni continuato dai loro figli c'è angela missoni che direttore creativo stilistico appunto della missoni moda rosita missoni che si diverte ancora a occuparsi appunto della sua creatura che appunto missoni ov il colore è il colore da gioia da vita scalda anche il cuore quindi e viva le case colorate ma viva anche le case bianche nere perché sono una fantastica cornice per il colore